I massimi servono i minimi. Cerchio Firenze 77, scuola del Cerchio Firenze 77, essere e divenire a cura di Vubbi, comprendere anche il significato delle espressioni mistiche, perché esse sono poetiche, ma hanno un significato positivo. I massimi servono i minimi è un'espressione mistica, poetica, meravigliosa, ma ha un senso preciso, esatto, direi quasi meccanicistico. Ecco dunque l'importanza di queste conversazioni e di queste riunioni.